Ehi James, lo sai che è autunno, vero? Sì, lo so. Non mi sembri Giudì Morale. Come mai? Suppongo che oggi sia una buona giornata. La mia vita non è sempre grigia, sai? Già, deve essere impazzito. Pazzescamente letale! Ma seriamente, è successo qualcosa? Ho finalmente preso la... Scherzo. Sono solo contento di essere qui con te. Che dolce. Ah, e sta per uscire quel nuovo RPG. Ci sarà da divertirsi. Bruh... Who wants it? Un po' Un po' Un po' Ciao